Bene, avete sentito l'argomento veramente importante che ha suscitato diversi interventi durante lo svolgersi di questa tavola rotonda e quindi si è costruito qualcosa che può essere un'idea importante da portare avanti per la nostra comunità perché moneta, come diceva l'assessore Giorgio Massari, moneta vuol dire scambio, vuol dire incontro, vuol dire anche relazione per questo va a braccetto con quello che è la città, la comunità, quindi l'insieme di individui che vivono in una comunità ma rimaniamo comunque per certi aspetti ancora al comune di Ragusa L'appuntamento di ogni venerdì sul canale 89 di TeleIblea è quello con il direttore Cesare Pluchino e voi sapete benissimo che il titolo di questo appuntamento seguitissimo peraltro è Malcomune e adesso andiamo a sentire tutte le news di questa settimana del comune di Ragusa, sentiamo